bello per tutti mi ricordo di Danny Wrestling che ti prego torna su youtube torna la tua mancanza si sente caro Danny Wrestling a parte questo ben ritrovati buongiorno e buon pomeriggio e quasi buon pranzo a voi tutti parliamo in questo primo video di oggi della UEFA Europa League le gare di qualificazioni semifinali che praticamente vedrà già una partita quest'oggi quindi andiamo con l'elenco in ordine cronologico Apollon, Lech, Poznan oggi alle 18, Ararat, Armenia, Ceglie domani alle 16, Cups, Condro, Suduva alle 17 e 30, Mollo, Ferbar, Reims alle 18, Vittoria, Pölze, Sondeschie alle 18, Rostov, Maccabi, Haifa alle 18 e 30, Vesictas, Rio, Ave e da questo partito uscirà la possibile avversaria del Milan, se il Milan passerà il turno alle 19, Charles Roy partizza in Belgrado alle 19, CSK soffia contro il B36 Toshavn alle 19, Jungarden Cluj alle 19, Floriana Flore alle 19, Malmolo, Comodip, Zagabri alle 19, Mure, Piesse, Wendouven alle 19, Riga, Saltic alle 19, Rosenborg, Galani, Aspor alle 19, Stiawa, Bucharest, Liberek alle 19 e 30, Pöl, Berceva, Modarwell alle 19 e 30, Pöl di Nicosia, Znischke, Reventi, Copenhagen, Piast, 20, Galatasaray, Heidouk, Spalato, Reventi, Granato, Locomotiv, Tbilisi, Reventi, Klavskiv Dinamo, Tbilisi, Reventi, Tiraspol Dundalko Revendi, Sarajevo Buduk Nostore Vendi, Sembra Leventi, Schenta Tottenham, Stantarlegio Evoidina, 20 e 15 Wolfsburg Desna, 20 e 30 Basilea Nortosis, stesso orario per Las Klins Streda, Legge a Varsavia a Drida, Milan Bodo Glimt, San Galen a Cappatene, 20 e 45 a Riega Colosso Crovalibca, ora 21 Sporting a Berdini, Willem Chou Rangers, e poi tra le sfide che saranno effettivamente le sfide playoff ne vedo già due, del primo ottobre, Dinamo, Brest, Ludo Gore, Young Boys contro il Tirana. Quindi buon calcio e buona UEFA Europa Liga, a tutta la prossima, cioè noi ci vediamo per i prossimi video di quest'oggi, ciao!